ciao ragazzi siamo qua in diretta dalla casa di every eye a los angeles abbiamo provato fifa 15 in realtà l'abbiamo provato due settimane fa a milano una presentazione porte chiuse i punti forti sono chiaramente la grafica è la cosa che esce di più il motore ignite è stato spinto veramente al limite sono stati rifatti da zero i modelli poligonali quindi scheletri ossature e anche la corporatura e lo vedrete soprattutto sulla sulla geometria delle spalle che ora è finalmente realistica poi dopo la grafica quindi anche i manti erbosi che sono segnati dalle scivolate dai take e anche dai passaggi dei giocatori c'è la fisica della palla completamente rivista e inoltre intelligenza artificiale hanno spinto veramente tanto questa volta sull'intelligenza artificiale quindi nuove animazioni capacità di leggere le situazioni e di preconizzarle quindi di leggerle in anticipo anticipando la mossa giusta da fare in più c'è la parte tattica insomma la parte tattica è sempre stato il tasto dolente di fifa questa volta invece si potranno utilizzare tattiche che avranno un effettivo risvolto nel nel computo della partita quindi paccheggiare il bus come murigno si potrà fare e attenzione anche l'intelligenza artificiale risponderà a seconda delle esigenze della partita magari deve pareggiare quindi troverete una squadra che sarà tutta rivolta in attacco una cosa che non è stata mai fatta nei fifa passati e infine le modalità di gioco elettronica arsa ha tenuto il il più alto riservo sulle modalità però attenzione la cosa importante che non ci saranno decurtazioni come è invece avvenuto lo scorso anno nella giornata poi di domani proveremo nuovamente il prodotto cercheremo questa volta di provarlo in single player per vedere veramente che tutte queste feature siano state implementate a dovere soprattutto quelle tattiche e faremo tantissimi video gameplay e